Vizi insanabili nell'autentica delle firme, con queste motivazioni i giudici del Consiglio di Stato hanno definitivamente chiuso la partita elettorale per la lista del PDL ad Isernia. Il ricorso ai magistrati di Palazzo Spada rappresentava l'ultima spiaggia per i quattro candidati del Partito Azzurro scesi in campo nella circoscrizione Pentra a sostegno del candidato presidente Michele Iorio. Un duro colpo per il governatore uscente che perde così un apporto determinante nella sua nuova corsa al vertice di Palazzo Moffa. La notizia del rigetto del ricorso è arrivata in Molise poco dopo le 14, questa mattina come da programma, la discussione in udienza nella quale i legali del PDL hanno argomentato le loro tesi dinanzi ai magistrati amministrativi. Ma poche ore dopo è arrivata la sentenza e il verdetto del Consiglio di Stato esclude definitivamente la lista Pentra del PDL dalla competizione elettorale per le regionali 2013. La decisione dei giudici romani segue il precedente parere della Commissione elettorale circoscrizionale di Isernia e la successiva sentenza del Tar che confermava i vizi. Al centro dell'esclusione alcuni errori, giudicati dunque insanabili, nella compilazione della lista relativi alla mancanza dei timbri di autentica nonché all'assenza delle firme necessarie a sostegno delle candidature. Il PDL dunque sarà presente solo nella circoscrizione di Campobasso. La mancata riammissione della lista su Isernia renderà a questo punto la partita molto più ardua per il centrodestra molisano. Il governatore uscente perde rappresentanti proprio nella sua provincia di appartenenza. Restano intanto esclusi dalla competizione anche gli otto candidati di Noi per il Molise, lista collegata all'aspirante presidente Paolo Frattura, ma che comunque, seppure privata di alcuni esponenti, resta in corsa nella competizione elettorale.